Sperimentare e osservare, questa è la mia idea di viticoltura. Ciao da Oslavia, sono Mattei, mi trovo nel vigneto di Merlot, dove lo scorso anno ho provato a impostare le viti a doppio guillo. Prima di raccontarti com'è andata, metti mi piace qui sotto e iscriviti al canale. Ed eccolo qua, il doppio guillo. Beh, tutto sommato sono stato soddisfatto della prova. Adesso andrò a ripulire questa vite che abbiamo già vendemmiato, sì, che abbiamo già potato, così ti mostro come si è anche già impostata un po' la pianta dopo un anno. E in più, poi, la sperimentazione, perché sono al secondo anno di sperimentazione, qui proseguirò con il doppio guillo, destra-sinistra, due tralci più corti, due filari dietro di me, anzi, davanti di me, andranno potati, per la verità, sono già potati a guillo corto, e altri due più davanti di me, sono invece potati a cordone speronato. L'intenzione mia è quella di vedere quale dei tre sistemi di potatura è migliore per il merlot, perché ti ricordo come già nel video precedente, quando ti ho parlato della potatura del doppio guillo, e te lo linko qui sotto, il problema del merlot appunto è questo effetto bandiera, questi tralci che nel centro sono vuoti, andando ad accorciare la potatura, teoricamente dovrebbe esserci una spinta più omogenea. Sono veramente molto curioso, ecco, nel vedere quest'anno, anzi, nel 2024, nell'annata 2024, come si comporteranno queste piante, però, ecco, bando alle ciance, vado a ripulire velocemente i tralci, adesso sicuramente so che mi farò male. in totale dovrei avere quattro gemme, un, due, tre, quattro, su un tralcio, e quattro gemme sull'altro, praticamente ho un capo a frutto di otto gemme. eccoci, bella aperta, anche come raccontavo nel video precedente, dedicato al doppio guillo, lavorando con la ramificazione, in un certo senso è molto facile fare questo. Una cosa mi sono accorto sul doppio guillo, oggi fa freddino, ma è umido, ed è facile stato piegare, vedi adesso l'ho accorciato, perché questa era un po' più grande, è già saltato, fare la legatura è una gran rotura di scatole, per quello spero che uno dei due metodi che ti mostro adesso sia più congeniale al merlot, così da evitarmi l'arogna di piegare il guillo doppio, che è una bella rotura di scatole. Fare il cordone non è facile, perché sono piante già vecchie, impostate a guillo, e essendo poi merlot, è difficile trovare dei tralci come questo, dove ha germogliato bene anche al centro, e anche alla giusta distanza, perché qua siamo 15, 15, 15. Qua è un cordone da disegno, perfetto, l'ho già passato a stralciare, lo lascio così lungo, perché siamo all'inizio dell'inverno, andrò poi a rifilarlo a due gemme, farò dei speroncini molto corti, questo per evitare di crescere troppo in alto, e velocemente, e avrò così otto gemme, otto gemme, e spero di queste otto gemme, tutte belle pimpanti, ecco, perché qua la potatura è corta al massimo, ecco, potenzialmente questo dovrebbe essere il sistema migliore. Ma perché ho scelto questo vigneto per fare questa prova? Beh, innanzitutto perché l'ho provato l'altro anno, il doppio guillo, e ho detto, proseguiamo quel doppio guillo, ma poi, questo è un vigneto di merlot, che c'è talmente tanto di fallanza in mezzo, che se io faccio qualche cavolata qua e là, non se ne accorge nessuno, ecco, non mi sgrida Robert, che non li porto uva, per quello non è un grande problema, ecco, però mi serve da scuola, ecco, perché in viticoltura è importante, ecco, osservare, è bello vedere le prove di altri, partecipare a conveni, tutto quello che vuoi, ma finché non tocchi con mano, provi nella tua vigna, che sia un trattore, che sia una cimatrice, che sia una defogliatrice, una prepotatrice, o anche delle lavorazioni agronomiche, finché non le provi nel tuo di vigneto, non ne sei così partecipe, non sai effettivamente se conventa o non conventa, cioè se merita o non merita la lavorazione, o il mezzo che teoricamente vorresti fare o provare, per quello, dal mio punto di vista, sperimentare ogni anno, magari due filari, quelli un po' più sfigatelli, dove si può fare qualche errore, fa bene, non è uva buttata via, non sono soldi persi, però, impari tantissimo, e dà la propria esperienza, più facile di così, ma, lì dietro, adesso ti accompagno, fatto il cordone, andiamo a vedere, l'idea del guio, proprio, corto, 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 guio semplice, con, l'apertura, diciamo che questa è la pianta, forse non proprio perfetta, però, è un rimpiazzo, ed è anche bello vigoroso, 5 gemme, 1, 2, 3, 4, 5, anche qui, magari per piegare, sarà un mezzo, mezzo casino, però, spero, ecco che, di avere dei risultati, anche su questo, su questo sistema, di potatura, corta, perché, siamo più corti, come numero di gemme, cioè, come numero di gemme, siamo inferiori, al cordone, e al, e al doppio guio, se ne sono solo 5, però, vero è, che è, il tralcio più lungo, fra i tre, per quello qua, sarà interessante, anche andare a vedere, poi, in, primavera, il germilamento, per quello, iscriviti al canale, perché, perché farò un video, sul germogliamento, poi, tutta la fase estiva, verrà, tenuta, sotto controllo, e alla fine, il giudizio, logicamente, quello che vale di più, è in vendemmia, se no, che stiamo a facqua, ecco, sta facendo, sta iniziando a fare freddo, e, il video, è arrivato a conclusione, fammi sapere, le tue idee, qui sotto, le perplessità, o se hai qualche suggerimento, finito anche per oggi, e ci vediamo la prossima volta, ciao ciao!